Ti piacerebbe che dicessi che è tutta colpa di Allegri? Oppure ti piacerebbe che trovassi comunque il modo per giustificare e difendere Allegri? E invece no. Dirò semplicemente la mia opinione. Faccio questo video di mattina presto, sono le 8. Ho anche dormito poco. Come mi capita tutte le volte che la Juve gioca di sera e il risultato non è positivo, il nervoso fa sì che io non dorma a sufficienza, quindi perdonate la voce e tutto quanto. Tra l'altro questo vi piacerebbe, l'ho copiato da uno youtuber che seguo, che si occupa di finanza personale, Paolo Coletti, che è un mito, quindi non scrivete, ma l'hai copiato? Sì, l'ho copiato e lo ammetto, lo ammetto anche, è una cosa che mi fa molto ridere. Non mi fa ridere la Juve, anzi, cerchiamo di capire cosa è successo ieri sera, tra l'altro ieri sera l'ho vista in live, una cosa che non faccio mai, però siccome il lunedì abbiamo la live dei faziosi, c'era la partita da Juve, l'abbiamo fatta così e non riesco a godermela appieno, non riesco a valutarla appieno, però poi comunque me la sono riguardata anche se non tutta, con una certa dose di masochismo, di chi è la colpa? Intanto ci sono colpe per questa prestazione, sì, perché quando una squadra come la Juve in tre giornate fa soltanto un punto e in queste tre partite ci sono due partite casalinghe contro Empoli e Udinese e le colpe ci sono e le colpe quindi vanno come sempre distribuite tra allenatore e giocatori. Quindi dico subito questa cosa qua, almeno così tutti quelli che mi seguono apposta per criticarmi sul fatto che io difendo più l'allenatore che la squadra, ripeto, poveri imbecilli, tifo Juve da quando Allegri ancora non aveva neanche iniziato a giocare a pallone, parliamo della fine degli anni 70, quindi oggi c'è Allegri, sono con Allegri, domani vedremo chi sarà il nuovo allenatore, sosterò la squadra, l'allenatore mi potrà piacere, mi potrà non piacere, ma io tifo Juve, non ho mai pensato di cambiare squadra, non la chiamo Allegrentus, quelli sono i disagiati, non quelli che difendono o criticano e attenzione l'allenatore attuale. Ok, quindi chiudiamo, sta parenti, stanto tutte le volte mi viene detta questa cosa da grandissimi disagiati e tocca dare risposte. Errori di Allegri, innanzitutto se non trovi il modo per motivare la tua squadra, quando sei a un passo dall'Inter, parliamo ancora della partita con l'Empoli, una squadra che comunque è in palla, sta giocando bene, sta girando bene, sta correndo bene e non riesci a dargli la motivazione giusta per affrontare bene una partita come quella contro l'Empoli, hai delle colpe. Quindi a colpe l'allenatore contro l'Empoli, si è vista la squadra entrare in campo molto nervosa, si è visto poi dal fallo di Milik è crollato tutto, ecco sembra proprio a livello simbolico che tutta l'architettura della Juve di quest'anno sia crollata proprio con quello stupido fallo da espulsione del nostro attaccante polacco. Paradossalmente la partita contro l'Inter non è stata una brutta partita, c'era chi sosteneva che avremmo dovuto attaccare di più, come la Roma, ma anche su questo ci ho fatto un video e ne abbiamo parlato, e come la Roma abbiamo perso, non è stata una brutta prestazione quella contro l'Inter, se non la prestazione di una squadra che gioca al cospetto di una squadra molto più forte, semplice, e ieri sera il disastro, la Juve è iniziato molto bene ieri perché è iniziato come spesso fa contro le squadre piccole, attaccando primi 12-13 minuti, tanto dinamismo, tanto attacco, tanta confusione, e poi però subito dopo si è visto che c'era difficoltà nel trovare soluzioni finali e quindi nonostante un gran possesso palla, questo dato che non serve assolutamente a niente, predominanza territoriale, il vantaggio invece dell'Udinese, Alessandro, ecco, Alessandro, porca miseria, sono tre anni, minimo, che questo giocatore è un danno per la Juve, e a me costa dirlo, costa dirlo perché io non sopporto quelli che se la prendono col singolo giocatore della Juve, perché ritengo comunque che i giocatori vadano in campo cercando di onorare la maglia, negli ultimi 15 anni credo che un solo giocatore io abbia attaccato personalmente ed è stato Jovinco, ma perché semplicemente per me non era un giocatore da Juve, ed era un po' un miracolato, non doveva stare lì, insomma. Alessandro, ora io davvero vorrei chiedere ad Allegri perché. Prima di questa stagione, e prima degli infortuni paralleli di Danilo, poi di Bremer, insomma, le varie problematiche che ha avuto la Juve in difesa nella prima parte della stagione, si pensava, vabbè, Rugani non gioca mai perché evidentemente è così scarso da non meritare di giocare invece Rugani, quando ha giocato, ha giocato talvolta da migliore nella sua difesa e quindi, ora certo, rientra Danilo, rientra Bremer, c'è Gatti, sono loro i tre centrali titolari ma quando manca, specialmente quando deve sostituire proprio Danilo, cioè nel suo ruolo, perché non Rugani? Questa cosa qua io non... anche perché non è che dici, no, la Juve comunque crede ancora in Alexandro al punto che gli rinnova il contratto e Dio ce ne scampi i liberi. No, la Juve ha già dato il ben servito ad Alexandro, l'avrebbe mandato via anche l'anno scorso se solo avesse trovato qualcuno in grado di pagarcelo. E invece punti su Alexandro e di chi è la grande cappella sua. Alla fin fine il calcio vive di episodi e la Juve ieri ha avuto questo episodio sfavorevole, altrimenti probabilmente non avrebbe preso gol e forse senza quel gol sulle spalle sarebbe stata in grado di trovare la via del gol. Poi però si sono visti tutti lì, vedete, ripeto, quindi colpa di Allegri, ok, punto. Anche solo per il fatto di aver scelto Alexandro, poi per il fatto di non essere riuscito a motivare la squadra non contro l'Inter ma contro l'Empoli e ieri contro l'Udinese, anche se ieri l'approccio è stato positivo. E però poi ci sono i limiti di questa squadra, e io lo dicevo quando le cose andavano bene, quando una squadra overperforma, cioè va oltre quello che potrebbe dare, e poi prima o poi arrivano le serate storte in cui la paghi. Ieri è stato un disastro totale, da Milik che ha avuto delle occasioni, le ha tutte puntualmente sbagliate, quella che ha segnato la palla, era uscita dalla linea, a Chiesa, che giuro che Chiesa mi sta diventando sempre più insopportabile, perché lui è il giocatore che più ci sta mancando, e non per problemi nostri, ma per problemi suoi, fisici, seppur involontari. Invece anche ieri, sì, tanto dinamismo, prova, fa, ma non fa mai la scelta finale giusta, tira alto, crossa male, e poi va via tutto arrabbiato. Eh, ma ti devi arrabbiare con te stesso, non con l'allenatore, non con la squadra, con te stesso, oppure se ritieni di essere sprecato in una squadra come la Juve, va bene, cercati una squadra in grado di accontentarti per quelle che sono le tue richieste, e vediamo poi che cosa potrai combinare. È in calo anche McKennie, e ci sta, ragazzi. Dopo una stagione come la sua, ci sta anche che arrivi con le batterie scariche. Ieri ha giocato male anche Rabiot, ed è uno, capite che, quando giocatori come Rabiot e Chiesa vengono a mancare, cioè ti manca veramente la qualità in questa squadra. Guardiamo Locatelli, anche Locatelli, ieri ha giocato molto male, cioè i giocatori di qualità della Juve si sono sciolti come neve al sole, il risultato qual è stato? Di un secondo tempo in cui si è creato tanto, ma tanta confusione, tanti errori di ultimi 15 minuti sono stati una cosa terrificante. Sembravano veramente la Juve di certe partite dell'anno scorso, in cui passaggi sbagliati, interventi dei difensori in ritardo, penso a quelli di Gatti. E queste sono cose che capitano quando non sei lucido, e quando non capisci che cosa sta succedendo, non sei dentro la partita perché non riesci a fare quello che pensi che si debba poter fare. Guardiamo i cambi. Sì, perché non hai messo Alcaraz? È appena arrivato, se non l'ha messo evidentemente non c'era la condizione di forma ideale. Entra Nicolussi Caviglia, entra Cerri. Cioè, ragazzi, ma vi rendete conto? Sì, sono sufficienti per essere, non che l'Udinese abbia giocatori migliori, sì, ma infatti l'Udinese non ha fatto nient'altro che stare lì e difendersi e cercare di evitare di farsi recuperare un risultato, un vantaggio acquisito per botta di fortuna, per l'errore di Alexander. Infatti la classifica dice che la Juve è ancora adesso seconda, e l'Udinese non so dov'è, ok? Quindi non diciamo sempre le solite minchiate, però la Juve deve battere l'Udinese, sì, infatti fa più punti dell'Udinese. Nella gara singola, spesso e volentieri la grande squadra, come può essere l'Inter, ti mette dentro determinati giocatori che valgono i titolari e la Juve non ce l'ha questa. Già spesso i titolari non valgono i ruoli da titolari nella Juve. C'è poco altro a cui appellarsi, i cambi, i cambi quelli erano, sono stati anche fatti nelle giuste tempistiche, non si è aspettato tanto. Questa è la Juve, io mi auguro che ora si ritrovi la quadra e si capisca che il nuovo obiettivo è quello di restare tranquilli, ancorati nelle prime quattro, non dovrebbe esserci un problema, perché la corsa, ricordiamoci, tutti che stiamo a guardare il Milan, tanto il Milan ci passa davanti e anzi è l'unica speranza che il Milan per il campionato, dico, possa continuare a vincere e magari chissà approfittare di qualche passo falso dell'Inter, di cui io dubito perché è sempre meglio che vinca il Milan piuttosto che l'Inter. e poi anche dal quarto posto, eppure comunque a una certa distanza dell'Atalanta, noi dobbiamo guardare alla quinta, la quinta è dietro di non so se 14 punti, non ricordo, bisogna difendere quel vantaggio, nel frattempo cercare di capire cosa si può salvare di questa squadra, ma tanto secondo me, per me è molto semplice il discorso, se tu a questa squadra inserisci tre giocatori molto forti di qualità e anche di esperienza, oppure due giocatori molto forti di qualità, anche relativamente giovani, ma poi ci aggiungi anche un paio di elementi di grande esperienza, allora questa è una squadra che forse l'anno prossimo può ambire a giocarsi lo scudetto, non quest'anno, anche l'anno prossimo sarebbe difficile, però è la Juve, se vengono messe in capo le risorse necessarie diventa un obbligo, ok? E poi la questione allenatore la vedrà, la deciderà chi di dovere, a me, io davvero, adesso lo dico seriamente, sono arrivato a un punto in cui una parte di me vorrebbe la conferma il rinnovo di Allegri per vedere impazzire la gente, e anche perché razionalmente io penso che su questa squadra che Allegri ha costruito possa lavorarci bene, però non ho alcuna certezza che sia così. Dall'altra parte però sono stanco, sono stufo di questa contrapposizione, di questo non poter dire una cosa per cui è colpa di Allegri c'è gente sui social disagiati, che addirittura fa la morale sulla vita personale di Allegri, perché è un fedifrago, perché non è un buon padre, la sera torna a cadere, ma anche gente molto conosciuta che ha le live famose. Io all'Ibisco, cioè nel 2024, ci si può sposare, accoppiare con chi ci pare, contro le discriminazioni e questi vanno a scavare nella vita privata di un allenatore e gli fanno la morale sul fatto che è divorziato, che non torna a casa dei figli, una roba sulla quale io ci sguazzo anche, perché mi piace mettere in ridicolo sta gente, però poi davvero sono stanco, vorrei che si tornasse alla normalità nella quale si giudicano le partite, poi la libertà anche di potersi esprimere sull'allenatore senza venire etichettati come Allegri, sei Allegriano, non ti fila Juve, oppure tu sei, già, basta, sono un po' stanco, sono un po' stanco, e meno male che questa decisione non la dobbiamo prendere noi, ma la prenderà chi di dovere. commenta, iscriviti al canale, fai quello che ti pare, ok? Ciao da Emiliano Faziosi.